Non c'è da riscattare niente dell'andata, è da giocare un'altra partita, siamo al giorno di ritorno, sono tre punti in palio, arriva la squadra più forte del campionato, quella che ha un potenziale incredibile per la categoria. E noi dobbiamo fare la nostra partita, consapevoli del valore tecnico dell'avversario, consapevoli che se hanno un valore tecnico superiore noi dobbiamo mettersi di superiore a qualcos'altro, intensità, grinta, carattere. E' un lucido modo di tenere il campo perché oltre che alle qualità tecniche sono giocatori che hanno delle capacità tattiche, fisiche, in velocità e rapidità e capacità di trasformare l'azione difensiva in azione offensiva e di fare delle giocate incredibili e quindi dobbiamo tenere molto molto bene il campo. Quindi serve una prestazione super dove si deve sbagliare veramente il minimo sindacale. Purtroppo non saranno dalla partita né D'Angelo né Mariano Arini che ci tenevano tantissimo a questa partita, che sono i due veri lupi di questa squadra come temperamento, come carattere e quindi in mezzo al campo sotto questo aspetto perdiamo molto. Però dopo dico sempre è una squadra che deve lo stesso rimboccarsi le maniche ancora maggiormente e lottare anche per loro perché ci tenevano tantissimo a questa gara. Dovremmo stirare fuori quelle caratteristiche comunque lo stesso che ho detto prima di intensità, di grinta, di carattere che Mariano e Angelo portano avanti proprio per primi. E noi lo dobbiamo ripetere perché questa è la nostra, penso, migliore propensione proprio tecnico-tattica da portare avanti. Quindi chi giocherà dovrà fare questo. Ci sono un paio di situazioni che variano sia dal modulo tattico che sia dall'impostazione di Gida in mezzo al campo. Oggi ho fatto la rifinitura, mi sono scusato, sto a dieci minuti in più a fare due robe tattiche perché abbiamo provato qualcosa di diverso. Vediamo, ci penso sopra a quello che ho visto oggi, domani c'è l'ultima rifinitura e da qui poi sceglierò come giocare. Ciccio, per me queste due partite che ha fatto un po' sottotono non sono una sorpresa, non poteva che essere così visto il momento lungo di assenza che ha fatto e quindi qualcosina doveva pagare. Ho visto comunque leggera ripresa questa settimana decisamente meglio, molto meglio in allenamento rispetto anche alle settimane precedenti. Quindi è tenuto in ampia considerazione anche perché Mokulu domenica è entrato, è entrato col piglio giusto, ha dimostrato di star bene, si è dimostrato anche un giocatore importante per noi, proprio per come ci ha permesso di alzare la squadra, però chiaramente non è al meglio della sua condizione. Anche questo, ripeto, anche il modulo che giocheremo domani sarà importante. Ha trovato bene, buona condizione, si è sempre allenato, ha giocato fin pochi giorni fa, è una buona condizione, siamo in attesa del transfert, io stasera lo vedete tra i convocati, lo troverete, però a questo momento ancora non è arrivato il transfert, speriamo che arrivi in serata, sarebbe un'alternativa importante. I due terzini bloccati, non è che li voglio bloccati, sono con caratteristiche un pochino meno di spinta, poi le devono andare a inserirsi anche loro. C'è Risconti che non gioca da tanto tempo, però potrebbe intrigarmi molto al suo rientro, perché abbiamo bisogno anche di fascia terare per le uscite sul piede mancino. Vediamo un po', la tattica è, a di là del modulo che poi incide anche questo, noi dobbiamo essere molto bravi a non trovarci mai fuori, mai sbilanciati. Ho detto prima, è una squadra che riparte molto bene, hanno attaccanti sempre pronti ad attaccare a profondità, ce n'è sempre uno che è pronto che è andare a profondità, mettono spesso questa palla sopra i centrali, quindi grandissima attenzione a questo. In mezzo al campo, vabbè, non ci sono grosse, secondo me, situazioni, se non quelle di cercare di limitarle, portando la pressione sui portatori di palla, accorciando gli spazi. Ed è molto importante che la linea difensiva rimanga molto alta, perché se questo non succede, c'è un buco in mezzo alle linee, allora gli attaccanti loro ti mettono in difficoltà. Quello che abbiamo cercato di lavorare in questi giorni, dove abbiamo provato e riprovato situazioni. Lì è solo questione di concentrazione, di applicazione, di stare sempre concentrati. Non c'è nulla, loro girano molto il triangolo dei centrocampisti, è sempre un di Gennaro, non fa il classico regista basso, si muove, va spesso in zona tiro. Mi sembra dei centrocampisti quello che ha tirato più di tutti in porta, pur essendo il basso. Quindi lui parte da lì, se poi è marcato, va a trovarsi in posizione, si abbassa una volta Fossati, una volta Munari, quindi alternano questo tipo di giocata. È evidente, lo sappiamo. E questo, chiaramente quando girano i tre centrocampisti, ti fanno perdere i punti di riferimento. Dovevi stare molto attenti, per questo dico questione di concentrazione. Però, grossi paroloni, poi alla fine è attenzione, applicazione, determinazione, capacità poi di non far male. Perché stiamo parlando sempre di fase difensiva, ma io penso che sia molto importante anche attaccarli, perché se ci mettiamo solo a difendere contro questi, prima o dopo il male ti fanno. Bisogna essere capaci di attaccarli, attaccarli bene, su qualche punto debole che hanno anche loro. E dobbiamo essere bravi a mettere in difficoltà lì. Roberto, stanno benissimo in questo momento. La settimana lavorativa mi ha fatto provare qualcosa di diverso anche con lui, quindi dipende il modulo che gioca. Non rispondo, il mercato ormai è fatto, non penso che ci siano tante situazioni comunque, però la società penso sia vigile, non lo so cosa capita. Vediamo, ma non credo che ci sia necessità di altro. Però bisogna sempre stare attenti perché ci sono situazioni che possono essere buone, è un peccato lasciare scappare. Per quanto riguarda... Arini è un grosso peccato, è più di un mese che è fermo, ha provato anche oggi, ancora il pire che oggi sta bene. Speriamo di averlo per novato. C'è niente, c'è una distrazione alla caviglia, ha preso di nuovo, quando ha provato a rialenarsi, ha avuto ancora di nuovo una mini distorsione e ha complicato un pochino la situazione. Grazie.